La palestra è stata inaugurata esattamente un anno fa, quando allora vennero i rappresentanti istituzionali del comune di Reggio Calabria a tagliare il nastro e oggi a un anno di distanza la palestra non ha visto un giorno di apertura. Ricordo inoltre che la palestra è chiusa da quattro anni, da quando purtroppo sono entrati gli immigrati, ancora oggi i bambini della scuola e del territorio non possono soffrire di questo spazio. L'attività motoria, secondo i DPCM, è consentita in determinati spazi, con determinati numeri di alunni o di componenti che possono praticare attività sportiva, la cosiddetta attività motoria singola e quindi anche da questo punto di vista le norme lo consentono, anche se la palestra è al coperto, ma c'è anche qui all'esterno uno spazio all'aperto, quindi si può comunque praticare l'attività sportiva. Da quattro anni che proviamo a interloquire col Comune, siamo stati noi gli artefici che hanno dato il via ai lavori, muovendo appunto il dialogo con gli uffici preposti. Da parte degli organi elettivi nessuna risposta, anzi uno struzionismo inspiegabile da questo punto di vista, anche perché questa è l'unica palestra di archi, non possiamo farne a meno, ma oltretutto non dovremmo neanche chiedere che l'apertura della palestra dovrebbe essere aperta d'ufficio, quindi da questo punto di vista noi ci siamo sempre aperti al dialogo con tutti. Questa per noi è una battaglia di civiltà, non è possibile che la palestra ancora da quattro anni sia finita nel dimenticatoio, non è possibile che non ci sia stato un pensiero rivolto agli alunni della scuola Clearcos e nessuno si sia interessato se questi alunni, se questi bambini praticano attività motoria o meno, quindi oltretutto questa era la palestra dove vi erano diverse associazioni sportive dilettantistiche dalla pallacanesso, dalla danza, dal calcio a cinque e oggi lo sport ad archi è purtroppo, se non qualche associazione sportiva dilettantistica così marginale, non è presente. Archi emerge da un periodo storico difficile, oggi Archi ha bisogno ancora di mantenere vivo quell'impegno istituzionale che noi stiamo chiedendo a gran voce e appunto far sì che i ragazzi frequentino spazi di legalità attraverso lo sport, attraverso il divertimento. Antonio, sono il professore di educazione fisica delle scuole media, scuola secondaria di primo grado di questo istituto del plesso di Archi. Qua viene negato il diritto allo studio ai ragazzi perché non hanno un posto dove fare l'attività fisica. In un momento così delicato dove l'attività fisica può essere una tutela per il virus ma anche per tutte le attività che fanno i ragazzi, gli viene negata. La scuola ha fatto richiesta al comune di Reggio Calabria il 26 agosto. Ad oggi non si hanno notizie. Io più volte ho chiamato in ufficio, mi sono interfacciato con il sindaco e con i vari assessori che però non danno delle risposte chiare su questa vicenda. Tanto è vero che stamattina ho fatto un esposto in procura perché non viene soltanto negato un diritto ai ragazzi normodotati della scuola ma soprattutto ai ragazzini diversamente abili perché in questo momento noi ricordiamo che c'è stato un momento in cui la scuola non è andata in DAD però i ragazzini disabili sono stati in presenza. Ragazzini disabili che se avevano una struttura come questa a disposizione potevano fare una determinata attività. Oltretutto la non consegna alla scuola cioè crea nei ragazzi anche una certa confusione come che lo Stato qua è completamente assente. Io ho accettato l'invito del Comitato essendo vicino sempre ai genitori e ai ragazzi la scuola fa parte di questa comunità e rappresenta oggi come Carabinieri, come la Prefettura lo Stato ad Archi quindi noi siamo presenti per garantire il diritto allo studio dei nostri ragazzi. La dirigente ha fatto la richiesta è stata fatta la richiesta l'anno precedente a più volte ha chiamato il Comune ha dato incarico anche a me purtroppo non ci sono risposte né ufficiali né ufficiose sulla vicenda di Archi la scuola si è attivata al massimo per cercare di risolvere questo problema però ad oggi è tutto fatto. Allora la palestra può essere utilizzata perché sulle norve covid non è consentito cioè noi qua non facciamo sport facciamo attività motoria e per i ragazzini disabili è elementare di psicomotricità questa è un'attività di tipo individuale non è un gioco di squadra non facciamo attività di gioco di squadra abbiamo, la scuola ha fatto un regolamento sulle attività motorie che vanno come vanno fatte e le prescrizioni per mettere in sicurezza sia i ragazzi che le strutture però ad oggi non si possono applicare perché non c'è una struttura dove i ragazzi possono fare attività motoria io ho ben cinque figli che hanno frequentato questa scuola di cui due sono già fuori perché vanno alle superiori e tre ce li ho qui in sede e purtroppo sono anni che si vede questa situazione un poco, devo dire, negativa anche perché si sono fatte promesse a dei ragazzi a dei bambini ed è proprio una vergogna a non rispettare le promesse ai bambini o ai ragazzi questo quartiere ha bisogno di questa palestra sono quattro anni che ci prendono in giro io mi chiamo Stefania Calarco e sono una mamma che vive ad Archi che è sua figlia frequenta la scuola primaria e un altro anno la scuola media io vorrei semplicemente dire che la palestra oggi fa un anno che è stata inaugurata e il giorno dopo è stata chiusa al di là del Covid l'11 marzo abbiamo avuto il lockdown la palestra del 21 dicembre è stata chiusa come in precedenza Reggio e Archi sono città all'abbandono perché le istituzioni le hanno abbandonate perché viviamo nel degrado ma non siamo persone che meritano questo perché siamo persone che lavorano e che hanno gli stessi diritti di tutti i cittadini italiani